Dopo questi mesi terribili, finalmente ho qualche giorno di vacanza, di riposo. So che purtroppo non è così per tutti, ma voglio augurare comunque a tutti buone vacanze. Dopo questo breve periodo abbiamo bisogno di riprendere l'iniziativa sulla nostra piattaforma sindacale dei pensionati che prevede il lavoro come primo argomento per tutti, secondo luogo una riduzione delle tasse, in terzo la questione della sanità. Abbiamo bisogno di una legge sulla non autosufficienza, ma soprattutto di un forte investimento sulla sanità che permetta di abolire liste d'attesa che ci costano a noi pensionati quasi 40 miliardi. E ora che il governo interventa subito, utilizzando i soldi che l'Europa si ha messo a disposizione, abbiamo bisogno di recuperare immediatamente la sua sanità. Quindi buone vacanze a tutti e pronti per ripartire a settembre l'iniziativa di lotta.